Le primarie valgono anche per Berlusconi? Le primarie valgono all'interno del partito. No, le chiedo se valgono anche per lui. Guardi, lei mi vuole far anticipare i contenuti del dibattito di oggi e io preferisco non farlo perché oggi avremo una discussione all'interno del partito su questo e cercheremo, io mi auguro di costruire un percorso unitario, ma il percorso unitario lo si deve fare rispettando e contenendo le posizioni di tutti e valutando anche e soprattutto il fatto che non sia un ragionamento autoreferenziale tra di noi, ma che ci sono milioni di elettori che non ci votano più e che forse ci osservano ancora per poco e io penso che siccome questi elettori non sono andati a votare, è bene che questi elettori possano ritrovare in noi un rilancio ed una rifondazione, uso le parole dello stesso Presidente Berlusconi.